Questo video riguarda i migliori tre termoventilatori economici. Il vincitore della qualità nel nostro termoventilatori economici va al ProBreeze Mini. Questo mini riscaldatore da 2000W utilizza un'avanzata tecnologia di riscaldamento in ceramica che fornisce un riscaldamento più rapido ed efficiente dal punto di vista energetico. Dispone di tre impostazioni di potenza di 900W, 1300W e 2000W e un termostato completamente regolabile che monitora la temperatura. Questo riscaldatore leggero, compatto e potente è perfetto per l'uso nel tuo spazio personale, sopra o sotto i tavoli, accanto al letto, a casa o in ufficio. Scegli tra le impostazioni della ventola alta, media bassa per un controllo flessibile del calore. Ruota semplicemente la manopola per ottenere la velocità della ventola desiderata. La tecnologia avanzata della ventola in ceramica produce vapore diretto di aria calda e riscaldante, mentre gli elementi riscaldanti PTC si riscaldano rapidamente e mantengono una temperatura calda costante. Controlla il tuo riscaldamento con il nostro termostato di facile utilizzo. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Roventa SO2210. Salva spazio con Compact Power 15% più compatto rispetto al modello precedente. Ideale per qualsiasi ambiente senza rinunciare alla sua potenza di riscaldamento. Questo termoventilatore offre diverse impostazioni per l'ottimo comfort. Scegli tra il livello minimo e massimo per un uso prolungato o per un riscaldamento rapido. Grazie alla funzione di ventilazione fredda, potrai rinfrescarti e rinfrescare l'ambiente. Il termoventilatore, concepito per durare negli anni, presenta una funzione di ventilazione fredda, ideale per rinfrescare il corpo e gli ambienti piccoli. Ti basterà guardare il dispositivo per capire se è acceso o spento. Il vincitore della performance premium nel termoventilatori economici è il DeLonghi HVA3220. Il massimo del comfort in dimensioni ridotte. Con HVA3220 riscaldi la tua casa senza occupare spazio. Termoventilatore con potenza max di 2000W, due livelli di potenza per stanze fino a 60 metri cubi. Dotato di termostato ambiente per impostare la temperatura desiderata, funzione antigelo e protezione IP21, ideale per l'utilizzo in bagno. Due livelli di potenza e ventilazione estiva per ogni tuo bisogno. Appositamente progettato adatto per l'uso in bagno. Termostato ambiente regolabile per impostare la temperatura desiderata. Completo di funzione antigelo. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.